Ciao a tutti ragazzi, io sono papà salvo Prima di cominciare questo video iscrivetevi al canale Cavaleri Family e cliccate sulla campanella Non so se avete notato ragazzi, dietro alle mie spalle ho le mimose Da quella parte c'è un po' di macchia mediterranea Grazie, siamo in Sicilia Aurora, ma così subito arrivi e subito tu dici dove siamo E siamo arrivati, perché abbiamo preso l'aria e siamo arrivati qua E scusa, quindi siamo in Sicilia e siamo esattamente a... A Gela A Gela? Eh sì ragazzi, Gela è la mia città, è bellissima, venite qui a visitarla Ci sono tante spiagge bellissime, il mare è stupendo E vi fate delle scorpacciate di pesce freschissimo Eh ma sì Aurora, cioè scusami, ma Claudia dov'è? Guarda papi, è lì Eccola, ragazzi nel frattempo guardate, il mare La sabbia Sì sì, mi mancavano tutte queste cose, guardate la macchia mediterranea che bella Mmm che profumo Guardate ragazzi, guardate, guardate dov'è Ok cara mamma, ti vuoi rilassare eh? Adesso ti faccio saltare in aria invece Andiamo, venite con me, venite Silenzio, 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 guardatela Guardate, guardate, guardate 3, 2, 1 Mamma ti eri rilassata eh? Ma io dico, ma uno non si può rilassare mai con te? Almeno 10 minuti qua sdraiata a prendere il sole, è una giornata fantastica, finalmente un po' di aria di mare e tu vieni sempre a disturbarmi Mamma mamma mamma, non hai capito ancora proprio niente Ho portato qui con noi in Sicilia da Milano mamma, questo sacco delle lol Dammi qua, cosa c'è, me lo dai? Ecco come al solito, grazie Allora, vediamo se indovino Uova di Pasqua Ma che dici Auri? È leggero, leggerissimo, l'uovo di Pasqua non è così leggero, fa un sacco di rumore Sono piccole le uova Beh, in effetti Auri, dal rumore sembrano un sacco di biglie Compriamola mamma Vediamo, vediamo, dai Vediamo, vediamo Mamma fai vedere qui a casa eh Vediamo Ta-da! Avevi ragione tu Auri Sono delle piccolissime uova di Pasqua super colorate Guardate ragazzi, ora svuotiamo il sacco proprio qua Così vedete bene eh, perché Ci sono un sacco di uova piccole, 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 colorate Ok, dai mamma, svuote il sacco Via, svuotiamo il sacco Vediamo, vediamo Ma, ma cosa sono? Belli caramelle Emi, già sei a mangiare le caramelle? No, 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 la plastica non si mangia Per prima cosa papi direi di ricomporre le uova Ma perché mamma? Hai intenzione di organizzare una challenge, non mi dire Ebbene sì papi, guarda che belle queste uova tutte colorate Ho in mente per voi una bellissima challenge Mamma, qui dentro ho messo un cioccolatino Io qui ho messo la sabbia La sabbia? Vediamo se fai la formina dell'uovetto Vai, vai Ma dove la fai? La devi fare lì sulla sabbia Scusa Vediamo se esce fuori Secondo me no È uscita È uscita Vediamo, vediamo Guardate, guardate Piccolo uovetto di Noemi Ok ragazzi, nel frattempo la mamma prepara questa bellissima challenge di Pasqua In spiaggia, andiamo a vedere la macchia mediterranea Almeno vi spiego che cos'è, scusate Auri, spiega un po' che cos'è la macchia mediterranea Ci sono delle margherite Delle piante spinose Ma si trovano in spiaggia queste piante Guardiamole, ma ci sono anche le api? Sì Tante? Sì E sì ragazzi, Aurora ha paura delle api E voi, avete paura delle apette? Scrivetelo su nei commenti e fatecelo sapere Guardate qui che bella questa margheritina Ma sono bellissime Guardate, di colore giallo Di colore viola Questa è la macchia mediterranea Guardate quanta ce n'è Ce n'è tantissima La particolarità della macchia mediterranea è proprio questa Guardate, quella spinosa Se la toccate vi potete anche pungere Guardate qui che bella ragazzi È tutta piena di spine, lo vedete? Ok ragazzi Nel frattempo che Papa Salvo vi ha svelato un po' il paesaggio Io ho preparato tutte le uova per questa fantastica challenge Ve le faccio vedere Oh, sembra che ho fatto una bella covata Nel frattempo Allora, queste uova che vedete raggruppate su questo lato Sono delle uova che hanno all'interno il cioccolatino Queste uova invece hanno all'interno un pupazzino Mentre invece questo gruppo di uova ha al suo interno Solo tanta sabbia È tutto pronto La challenge è questa Avremo uno spazio delimitato per vedere chi nel minor tempo possibile Massimo un minuto Riuscirà a trovare più uova con all'interno il cioccolato o la caramella Vediamo chi sarà il più abile di tutti a scavare con le proprie mani sotto la sabbia Secondo voi, chi vincerà questa sfida? Papà salvo, Aurora, Noemi o mamma Claudia? Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere Il campo già è pronto Siamo già posizionati Partiamo con la challenge Ok mamma, stiamo arrivando un attimino Nel frattempo devo far vedere le bambine Che stanno facendo un gioco per bambini bellissimo Cioè giocare con la sabbia Guardate, è stupendo Basta una formina e un po' di sabbia Aurora, Noemi, cosa state facendo? Io sto diventando bambina neonata Una bambina neonata? No, vuoi diventare un uomo piccolo Guardate, ma cosa sono queste qui? Questo è Pinocchio Tu Emi invece ti stai impanando bene per le feste? Qua dentro c'è un uovo Qua dentro c'è un uovo? Bimbe, ma quale qua dentro c'è un uovo? Ancora non avete capito? La mamma ci sta aspettando di là Dobbiamo andare Sta per cominciare la nostra challenge Cioè dobbiamo trovare le uova nascoste sotto la sabbia Siete pronte Noemi e Aurora? Noemi ci sto scaldando adesso Ma come vi state scaldando? Ma Noemi, ma ti stai scaldando? Ma pure tu mamma? Ma dove state andando? Ma dove devi fare una maratona? Sì, bisogna essere rapidi Ma cosa fai? Ma, 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 ma Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Cosa, co, 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 co Cosa stai facendo? Mi sto scaldando papi Devo scavare rapidamente sotto la sabbia Devo essere velocissima Ma guarda, ma pure Noemi Ma cosa fa? Guardate, guardate, guardate Guardate, si ferma Tac Brava Pure Aurora, guardate Guardate, brava Anche una schiacciata Ma guardo, guardate Giù scava Ok, ragazzi Devo dire che questa cialla È già dato un po' alla testa Cosa state facendo? Venite qui Il punto di raccolta è qui E a voi, ragazzi Piace giocare con la sabbia? Scrivete giù nei commenti Quali formine vi piace fare Di solito Testate con la sabbia Aurora, Aurora Aurora, Noemi Mamma Claudia Siamo tutti pronti Dobbiamo partire da qui Venite sotto di me Per piacere Salutate a casa Ciao Ok, salutiamo a casa Allora Ciao Iniziamo 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 Via Alla ricerca Alla ricerca Guardate Guardate Noemi Ma come? Ma Noemi L'ha già trovata subito Con quelle manine così piccole Veloce, veloce Veloce A cercare Guardate Due Ragazzi due Noemi ne ha trovata un'altra Mamma Ma noi siamo scarsi Aspetta io Vediamo io ragazzi Una anch'io Ce l'ho fatta Non me le rubate Io le metto qua Ok Una Ma Noemi è fortissima Ragazzi Oh Papi L'ha trovata L'ho trovata Ne ho trovata un'altra Vediamo Aurora Se cerca qualcosa Se trova qualcosa Dai 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 Non trova niente qua Ce la fai Ma non ce la fai mai Eccola Che cos'è Eccola L'hai trovata Vai vai posala Posala Emi Vediamo Emi Emi Ma tu sembri che trovi buova Sei un'altra Ragazzi Noemi mi sembra Decisamente in vantaggio E' quella che ha più uova Messe da parte Guardate Allora ragazzi La situazione è proprio questa Nel frattempo Loro stanno cercando Io ho preso un uovo Eto solo Noemi invece Guardate qua Già ha totalizzato Cinque uova Aurora tre uova E la mamma Claudia Mi ha superato Guardate due uova Ragazzi Sapete perché io Non le sto raccogliendo Perché alla fine Ruberò tutte le uova A tutti Sapete come sono io No Papi l'hai trovata Un'altra Un'altra pure tu Ma siete fortissime Brave Papi ma tu non cerchi Scusa fammi capire Stiamo giocando solo noi tre Io mi sto sporcando le mani Non trovo niente Guarda sono tutto sporco Mamma Dai Vabbè allora è sicuro Che stai perdendo Io te lo dico Guardate nel frattempo Aurora come si sta spalmando Sulla santa Eccone una Vedi 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 Oh la la Mamma Ma allora quella è l'atastica Papi sono in vantaggio Sei in vantaggio Ho 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 Gli effetti è vero Ragazzi silenzio Non scrivetelo giù nei commenti Che ora frego tutte le uova Guardatele Guardatele come scavano Oh ragazzi Vengono solo dieci secondi Quattro Tre Due Uno Silenzio silenzio ragazzi Guardate Prendo queste qua della mamma Zero Finito Ne hai trovata una Mamma mia Ne ha trovata una Andiamo a contare le uova Papi Mi sa che ti è andata male a te Ma cosa fai mamma Cosa fai Allora Vediamo Noemi Quante uova hai raccolto Sette Ok Sette uova Noemi Vediamo Aurora Uno Due Tre Quattro Cinque Cinque uova per Aurora Seconda classificata Ragazzi Aspetta che vi faccio vedere le mie Tre uova Voi ragazzi a casa Non dite niente Mamma Tu invece Io guarda Ne avevo raccolte già due o tre Mi sembra Più questa Sono a quattro Dove sono finite le mie uova Quale mamma Ma le avevo messe lì Papi Ma cosa dici Ma no Le avevo messe tutte lì Mi ricordo benissimo Le avevo posizionate Bimbe me le avete rubate voi Ma quale loro mamma Ma ne hai presi uno Ora poco fa Io te l'ho visto prenderne uno Vabbè ma non è giusto Ma non è giusto Mamma si è perso anche questo No ridammelo che mi è caduto Non fare il furbo Scusate Scusate voi a casa Se avete visto qualcosa Per piacere Che qualcuno ha barato Ditemelo Perché io ero presa a raccogliere Non ho visto niente Va bene va bene mamma Mentre ci siamo Che siamo qui con te Che sei arrivata l'ultima Per favore Puoi aprire il tuo uovo Vediamo se sei stata fortunata Almeno Va bene Secondo me avrò trovato Una bella caramella Vediamo Tre due uno Sabbia Adesso mamma devi dare una mano ad Aurora Aurora si metterà qui E tu passerai le sue uova Ok Auri sei pronto ad aprire le tue uova Sì Sei emozionata Vai mamma Primo uovo per Aurora Vediamo cosa c'è dentro Coniglietto Un piccolino coniglietto Fallo vedere Vediamolo Ciao a tutti Secondo uovo Vediamo Viola Viola Cosa c'è Caramella No Questo vale un punto Eh questo vale che se lo magna Brava brava Terzo uovo Terzo uovo di colore Verde Vediamo vediamo Un'altra caramella Cosa farai con la seconda caramella Poi ce la do Eh no Aurora Me la dai a me la caramella Scusa eh Io non ne ho Papà non fare il furbo Guarda che ti ho visto eh E farei che cosa Che hai rubato le uova di mamma Come scusa No 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 mamma Io no 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 non è vero Sono stata per tutto quel tempo Con le mani sotto la sabbia Inginocchiata per terra Per farmi rubare le uova da te No no mamma Andiamo avanti Andiamo avanti Vabbè vabbè Apri il penultimo uovo Colore Arancione Oh sabbia Ultimo uovo giallo Giallo Sabbia Sabbia Attenzione Attenzione Sabbia con caramella Oh Aurora totalizzato Tre caramelle ragazzi Ok ragazzi il gioco si fa sempre più stretto e più arduo Tocca a Noemi vediamo che cosa avrà pescato mai Ragazzi Noemi ha sette uova quindi ha una maggiore probabilità di fare punti trovando più caramelle Primo uovo blu Oh Coniglietto Vediamolo via Secondo uovo per Noemi Rosa Rosa Col coniglietto rosa Bellissimo Coniglietto rosa Terzo uovo Donore Vediamo 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 Oh Una fortunosa di conigliettosi Quarto uovo Vediamo vediamo Oh Che cos'è questa La devi mangiare Guardate Andiamo a quest'altro uovo Seconda caramella Evviva Ecco Noemi per piacere me la puoi dare a me questa caramella grazie No Ma dai dai me la puoi piacere Emi mettila da parte rima che papà salvo ti rubi tutto Andiamo al penultimo uovo Sì Fermo 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 Papi Basta io non vengo mai niente Ridai in No 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 Le caramelle a Noemi No assolutamente Me li porto via Ciao 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 No riprendilo Rigorilo Emi nel frattempo apriamo queste due Le ultime Prima che sia troppo torsi Vediamo 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 Prima che le apra lui Guardate guardate che Aurora continua a eseguirlo nel frattempo Che cosa c'era dentro la caramella brava tutte e due Wow papi mi sai che hai fatto la scelta sbagliata No Eh sì papi questo è quello che ti meriti per aver rubato le mie uova e anche quelle di Noemi non è giusto Quindi ti è rimasto solo un pugno di sabbia No i gusci Ecco ancora peggio Si la fa la studente Io direi che a questo punto a pari merito hanno vinto Aurora per maggior numero di caramelle E Noemi per maggior numero di uova trovate E io e te niente E va bene mamma Se anche questo nuovo video vi è piaciuto Ricordatevi di Iscrivervi al canale Cavaleri Family E cliccate sulla campanella Ricordatevi anche di seguirci sui nostri social Instagram e TikTok E sul secondo nostro canale Cavaleri Sisters Il canale di Aurora e Noemi Ragazzi ricordatevi di venire qui in Sicilia E soprattutto nella mia amata Gela Ma soprattutto ricordatevi che Noi siamo i Cavaleri Family Vado a prendere le bambine subito E faccio il solletico E rubo caramelle e cioccolato Papi sono laggiù sono fuggite Guarda non vogliono il solletico Prendile subito Papi guarda che sono veloci Puoi cadere sulla sabbia tu L'ho presa i frattestelletti Ma c'è Aurora c'è Aurora c'è Aurora Guarda guarda corri corri No ma è troppo veloce Aurora Presa anche lei Va bene ragazzi vi salutiamo Un bacione grandissimo E al prossimo video Aspetta aspetta dove vai? Clicca qui per iscriverti al canale Cavaleri Clicca qui o qui Per continuare a guardare i video della Cavaleri Family Ci vediamo